Nuovo appuntamento con Terra Santa Link, linea diretta con Gerusalemme. Non accenna a diminuire il focolaio di violenza esploso a Gerusalemme e divampato poi in vari centri della Cisgiordania. Proseguono le violenze e iniziano a mietere vittime. Vediamo. Sono tre i giovani palestinesi rimasti uccisi solo negli ultimi giorni negli scontri tra l'esercito israeliano e la popolazione araba nella West Bank, dove non accenna a placarsi il focolaio di violenza che da Gerusalemme si è allargato ai territori occupati. L'ultima vittima è Ahmad Izzat Katatbeh, 26 anni, ferito una settimana fa al checkpoint di Beit Furik, a est di Nablus. Martedì hanno perso la vita il 21enne D.A. Abdul Halim Al-Talakmeha e la 18enne Adil Ashlamun, uccisa al checkpoint di Ebron. In tutti e tre i casi il portavoce dell'esercito israeliano ha reso noto che i militari hanno aperto il fuoco in risposta al lancio di ordigni e nel caso della ragazza di un tentativo di accoltellamento ai danni dei soldati. Diversa la versione fornita dalla controparte palestinese che sostiene l'innocenza delle vittime. Nel caso della 18enne in particolare ha fatto il giro del mondo la sequenza fotografica che mostra la ragazza inerme che viene colpita dal fuoco israeliano. A tal proposito il governo palestinese ha chiesto alle Nazioni Unite di investigare sulla sua morte. Il clima di violenza non sembra destinato a placarsi. Il gabinetto di sicurezza del governo israeliano ha dato il via libera all'applicazione di nuove misure a disposizione di esercito e polizia. Da ora in avanti gli agenti potranno aprire il fuoco se esiste un concreto e immediato pericolo di vita per soldati o civili. Inoltre la pena minima per chi viene sorpreso a lanciare Pietro Dordigni è stata fissata a quattro anni di carcere e sono state introdotte multe più alte per i genitori dei minori coinvolti. Ancora una volta la miccia di questo ennesimo focolaio di violenza si trova nella spianata delle moschee nel cuore di Gerusalemme. La resistenza palestinese nasce dal concreto timore che Israele voglia unilateralmente modificare lo status quo che dal 1967 regola l'accesso all'aria e la libertà di culto. Per capire meglio da dove nasce la contesa vediamo insieme questa scheda di approfondimento. La spianata delle moschee nella città vecchia di Gerusalemme è il luogo simbolo del conflitto israelo-palestinese. Per gli arabi musulmani è Allah Ram al-Sharif, il terzo luogo sacro dopo la Mecca e Medina. Qui vi sorgono la cupola della roccia e la moschea di Al-Aqsa, costruita sul luogo da cui, secondo la tradizione islamica, è iniziato l'Isra, il miracoloso viaggio notturno di Mometto in sella al cavallo alato al Burak, e il Miraj, l'ascensione, con la quale il profeta avrebbe visitato i sette cieli e ricevuto da Dio le cinque preghiere quotidiane dell'Islam. Per gli ebrei è il monte del Tempio, il luogo sacro per eccellenza. Secondo il giudaismo, esso custodiva la pietra fondante della creazione, la stessa su cui Abramo avrebbe dovuto sacrificare il figlio Isacco. È qui che sono sorti due templi ebraici, distrutti rispettivamente nel 586 a.C. e nel 70 d.C., che custodivano al loro interno il santo dei santi. Sotto il dominio ottomano e successivamente durante il mandato britannico, la gestione dei luoghi santi è rimasta grosso modo invariata. Le questioni quotidiane legate all'area erano affidate ad un WACF, istituzione islamica di amministrazione di siti religiosi. Sotto gli inglesi ad avere il controllo era il Supremo Consiglio Mussulmano. Poi, dopo la guerra del 1948, la gestione è passata ad un organismo analogo con sede ad Amman. Come stabilito da secoli, ai non-musulmani era vietato l'accesso, ma gli ebrei non soffrivano per l'interdizione. Per loro era sufficiente avere libertà di culto ai piedi dell'adiacente muro occidentale, comunemente noto come Muro del Pianto. Unica parete sopravvissuta alla distruzione del secondo tempio giudaico. La tradizione fu confermata dopo la guerra del 1967. Nonostante Israele avesse occupato la Cisgiordania e con essa la città vecchia di Gerusalemme, il ministro della difesa Moshe Dayan lasciò il controllo della spianata al WACF e vietò agli ebrei di pregarvi, seguendo quanto stabilito dalla legge giudaica ed evitando lo scontro con gli arabi. Lo status quo fu ufficializzato nel giugno 1967, quando Israele, senza l'approvazione internazionale, applicò le proprie leggi a Gerusalemme Est. L'accordo finale con la Giordania, che rivendicava la propria sovranità, lasciò al WACF a scemita la responsabilità di amministrare l'area, ma diede ad Israele l'onere della sicurezza e della gestione degli accessi. Da allora, le autorità islamiche regolano il culto musulmano nel sito, stabiliscono gli orari di apertura, le regole di abbigliamento e di comportamento per i visitatori di altre fedi religiose e si occupano della conservazione e della gestione di un centinaio di strutture presenti sulla spianata. Il ruolo di Israele è limitato, per così dire, a sorvegliare i confini dell'area. Le forze di sicurezza regolano e occasionalmente vietano l'accesso al sito per garantire l'ordine pubblico secondo gli standard dello Stato ebraico. Dall'agosto 2003, senza il benestare del WACF, Israele detiene le chiavi della cosiddetta Porta dei Magrebini, che permette l'accesso al sito ai visitatori di altre fedi per 3-4 ore al giorno, fuori dai momenti di preghiera dei musulmani. L'ingresso è vietato il venerdì, giorno sacro per l'Islam, nelle festività musulmane e dal 2000 anche il sabato. Lo status quo è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi 48 anni, ma periodicamente viene messo a dura prova dalle tensioni tra le due parti. Sono tre in particolare i pomi della discordia, l'accesso alla spianata, la preghiera per i non musulmani, gli scavi archeologici e i lavori pubblici nell'area. Negli ultimi anni, con l'aumento di religiosi nazionalisti a sostegno della restaurazione del tempio ebraico, è cresciuto anche il timore dei palestinesi di perdere i propri diritti sul luogo sacro. Queste dinamiche hanno portato, nel mese di Ramadan del 2014, a pesantissimi scontri tra palestinesi e forze militari israeliane, sfociati nel rapimento e nell'uccisione di tre ragazzini ebrei in Cisgiordania, vendicati con l'assassinio di un adolescente palestinese a Gerusalemme. Il climax di violenza è scaturito tra luglio ed agosto nella guerra di Gaza, che con le sue 2300 vittime ha reso il 2014 l'anno più sanguinoso nella storia del conflitto israelo-palestinese, secondo quanto è riportato dall'ONU. Il procuratore generale israeliano ha annunciato che lo Stato ebraico offrirà un indennizzo al Santuario del Miracolo della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci a Tavga. La chiesa era stata oggetto lo scorso 18 giugno di un incendio appiccato da terroristi israeliani dell'estrema destra radicale. La notizia dell'indennizzo è stata accolta positivamente dalle chiese di Terra Santa. Soltanto pochi giorni prima i responsabili dell'autorità fiscale israeliana avevano respinto la richiesta di risarcimento presentata dalla Chiesa Cattolica per i danni provocati dall'attentato incendiario, sostenendo che la matrice terroristica dell'incendio non era dimostrabile. Lo scorso 27 agosto il sito era stato visitato dal presidente israeliano Reuven Rivlin, che nell'occasione aveva dichiarato Israele è un paese democratico che garantisce la libertà di culto per tutti nel quale le comunità cristiane devono poter fiorire in tutta sicurezza. E questo è tutto per questa edizione. Vi ricordo gli aggiornamenti sul nostro blog sul sito www.tsdtv.it L'appuntamento con la Terra Santa e il Medio Oriente torna come sempre la prossima settimana. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.